Sindaco, al via i lavori per l'apertura della Galleria Guinza tra Umbria e Marche, parliamo di un'opera importante che collegherà meglio il centro Italia. È molto importante, noi ci siamo sempre battuti affinché si riprendessero i lavori, non si lasciasse questa incompiuta che è un collegamento fra la costa tirrenica con quella adriatica, non a caso si chiama la Fano Grosseto, ma in realtà è anche un collegamento con la grande viabilità europea, una grande opportunità anche perché sarebbe stato uno spreco lasciare quest'opera da 30 anni bloccata, ferma, ed è una risposta ai collegamenti, è una risposta anche all'attività economica, alla circolazione delle persone e quindi il fatto che oggi si riprendano i lavori è un momento straordinariamente importante, positivo, è chiaro che a questo si devono proseguire gli altri stralci perché l'importante è arrivare veramente alla conclusione definitiva di tutta l'opera, che è un'opera complessa, importante e questa era la parte più delicata rimasta indietro, quindi è un bel momento, una bella giornata e anche e soprattutto un segnale importante di ripresa.